Te vorrei scrivere dei post su LinkedIn, cosa ne pensi anche se non è un'esperienza lavorativa? Va benissimo, LinkedIn è il posto fondamentale dove dovete partire già al liceo. Quindi, profilo LinkedIn, mi raccomando, strutturato seriamente, una bella foto, non una presa nel pub mentre siete andati a cena con gli amici o al mare o con gli occhiai da sole, un foto grande di sfondo che abbia a che fare con la vostra passione, quindi non un tramonto, ma se volete il mondo corporate, qualche ufficio o qualcosa relativa, se magari avete partecipato a degli eventi, delle foto di questi eventi, il profilo il più completo possibile è il discorso di essere attivi su LinkedIn. Va benissimo e si può essere attivi in tantissimi modi, cioè non è facilissimo avere qualcosa da dire o qualcosa di nuovo da dire, ovviamente noi ci sono neolaureato quindi magari non è un'esperienza lavorativa, non è un fatto di credibilità, è un fatto di condivisione, cioè io posso trovare un articolo interessante e condividerlo o in messaggio privato con delle persone a cui penso possano interessare quelle informazioni, oppure posso fare un post, non devo scrivere un articolo, ho trovato un articolo interessantissimo su questo sito, questo giornale, metto il mio commento e lo lascio là, in maniera tale chi è nel mio network vedrà quest'articolo e quindi va benissimo. Il scrivere per esempio quello che si sta facendo all'università, se avete dei progetti, se state collaborando con dei team, è anche quello interessante per far vedere le attività. Oppure se qualcuno fa delle... pubblica degli articoli interessanti o delle... fa dei riferimenti a degli studi e qualcosa, secondo voi, molto... con molto focus su quello che vuol essere la vostra carriera, commentate, chiedete più informazioni, chiedete se ci sono... vedete il tipo di persone che fanno commenti in questi articoli, quindi non vi preoccupate, cioè il discorso dell'avere attività su LinkedIn, non dovete essere scrittori, non dovete essere manager o persone che condividono cose di altissimo livello, ma anche semplicemente considerazioni su quello che sta succedendo, vostri commenti su un articolo, ovviamente... ripeto, cioè attenzione, LinkedIn non è Facebook, eh? Quindi non permettetevi di mettervi su LinkedIn a commentare la notizia quotidiana, la situazione politica o quello che ha a che fare con non mondo del lavoro. LinkedIn è LinkedIn, però se c'è un articolo sul quite quitting, se c'è un articolo sul... sul lavoro in remoto, come sta cambiando, se c'è un articolo sulle aziende, come stanno riproponendo alcune strategie e vi interessa, assolutamente, riproponete quest'articolo, mettete i vostri commenti e vedete se qualcuno si... si collega e fa delle... fa magari dei riferimenti ad altri articoli. È veramente molto interessante e tra l'altro potete anche individuare in questa catena di risposte quali sono magari dei gruppi o delle associazioni o delle persone o aziende da seguire perché magari costantemente pubblicano delle cose interessanti. Quindi va benissimo essere attivi su LinkedIn anche se non siete professionalmente arrivati. Grazie. Grazie.